Ben tornati signore e signori qui in nostra compagnia a castare qui per voi oggi Carlin accompagnato da Eddie Noyce e stiamo assistendo alla best of five che vede protagonisti Clash e Asura Gaming. Attualmente vede protagonisti principalmente i Clash considerando che nella prima partita hanno surclassato in maniera decisamente unidirezionale gli avversari. Un massacro, letteralmente un massacro. Vedremo se riusciranno a riprendersi gli Asura. Sì effettivamente è quello che abbiamo visto poc'anzi nella partita precedentemente giocata, Asura praticamente assenti nella landa degli evocatori, hanno subito perché d'altronde non puoi fare altro quando rischi di giocarti un Aatrox più Kartus e altri personaggi da scale e ovviamente non hai modo di farli scalare perché questo è quello che gli serviva. Tempo, gli serviva tempo. Tempo che non ti danno. Allora la cosa che mi lascia perplesso è che tra una partita e l'altra poi ho avuto modo anche di pensare un attimo meglio alla draft e voglio dire c'era così tanto da giocare in quella corsia centrale. Tu potevi tranquillamente mettere Aatrox contro Urgot è un matchup super standard e comunque non avrei preso Kartus in giungla perché a quel punto tu non puoi avere un losing matchup in giungla se vuoi dare priorità a un Aatrox contro Urgot perché se Urgot prende vantaggio ti massacra Aatrox ma quella è un'altra questione. Voglio dire è un matchup standard così come Urgot Sion è un matchup standard Urgo Aatrox lo è per quanto Aatrox sia un po' sottopressione. in questa patch. Urgot è stato fortificato e Aatrox no. Ecco. Il punto è che mid lane avevi Cassadin, avevi Galio, avevi Lissandra. Lissandra ricordiamo nuova passiva per lei già disponibile sul server e quindi avevi veramente di tutto da giocarci contro. Guarda te la butto lì a questo punto anche Ezreal gioca te lo mid. AP. Gioca lo mid AP almeno ha un po' di mobilità per salvarsi da situazioni scomode. Sì magari call siccome non puoi usare il flash ogni 20 secondi come per Beso quest'ultima partita magari almeno il teleport di... ma niente da fare. Inoltre abbiamo avuto modo anche di sbirciare le statistiche del giocatore e abbiamo visto che Aatrox non è tra i suoi campioni più giocati, abbiamo visto un win rate discutibile su quelli che sono le sue partite di allenamento e questo significa se sei in una partita dove, piccola parentesi, i clash ancora all'interno di questa competizione non sono mai stati sconfitti. Stiamo parlando di un team che da quando è entrato all'interno del promotion tournament dal qualifier non ha mai subito una sconfitta. Se sai che stai affrontando un colosso di queste dimensioni, non cercare di stravolgere le tue abitudini pur di aderire al meta. Perché è molto più probabile che riesca male una cosa del genere piuttosto che riuscire bene. Gioca comfort, giocami qualcosa che sai giocare e che sappiamo che sai giocare e che abbiamo allenato a giocare intorno a te. Perché il problema è che non è solo il campione singolo che non viene giocato bene dal giocatore ma come... La sinergia, esatto. E' quello dove effettivamente il problema è andare a piccare qualcosa fuori dalla propria comfort zone. Effettivamente non è sempre, anzi quasi mai in realtà, una mossa vincente. E' giusto adattarsi alle tattiche e strategie che possono stravolgere quella che è magari la tattica dei Clash Academy. Però se poi vai a sgattaiolare un po' troppo fuori piccando qualcosa che non ti è confortevole, a quel punto era meglio qualcosa con cui giocartela meglio. Anche perché parlando invece della draft dei Clash, alla fine dei conti le performance meccaniche sono state così elevate e i punteggi sul tabellone così alti da non darci neanche il tempo di soffermarci sulla loro draft. Voglio dire, hanno giocato così bene che potevano draftare anche i guardiani in pigiama che avrebbero comunque vinto. Ma non è quello il punto. Il punto è che la draft dei Clash conteneva una buona frontline da mid-game nella corsia superiore. Early game in Xin Zhao che con lo scatto fasico rimane uno dei migliori jungler dell'early game. Hai LeBlanc come strumento di transizione dall'early al mid-game, hai lo scaling di Jin e hai Tam Kench come giubbotto salvagente in caso qualcosa vada male. Quindi anche a livello di draft i Clash si sono presentati più preparati degli avversari e più preparati ad affrontare gli avversari, cosa che invece penso che gli Asura dovrebbero cercare di fare dalla loro adesso. Asura sono blueside, ricordiamo best of five, quindi la scelta del side spettava loro. Possono cambiare totalmente paradigma blueside. Andare magari a non bannare Lucian, lasciare questo ban agli avversari e quindi perdere un ban, oppure selezionarlo loro stessi e prendere il miglior tiratore di questa patch. Possono andare a selezionare comunque Carthus, però non giocatemelo in giungla. Carthus in giungla è leggibile come un libro aperto. È leggibile e soffre tanto. Sì, basta Xinzao, basta Kha'Zix. Kha'Zix è dannatamente forte in questa patch. Fa forte, non so perché. Fa fortissimo. Fa fortissimo. Comunque i giocatori stanno tornando in partita, in draft quantomeno e dovremmo avere a brevissimo la draft. Signore e signori, ci siamo. Draft secondo Draft, rimossa subito Irelia. Hanno tanta paura dell'Irelia di goal di flex su Gabbo possibile. Rimosso Blitzcrank, vedremo anche la rimozione di Shaco. Sì, a seguire sicuramente Shaco. Quindi staremo a vedere se gli Azure effettivamente imparano dai propri errori, quindi adotteranno magari una draft un pochino più sicura, un pochino più comfort per quanto riguarda loro. Continuano comunque a specchio. Akali, nuovamente, viene tolta quindi dalle mani dei Clash Academy. Shaco, come avevo già pronunciato, sono pick ban mirati. Il punto è, adesso comunque ricordiamo che la vastissima champion pool di Call non è stata mai neanche lontanamente toccata. I suoi pick più splendenti e non vuole essere un gioco di parole, tra quelli figura Lux, però devi rimuovere minacce come le Blank. Dall'altro lato i Clash dovrebbero bannare Lucian a questo punto e invece rimuovono Victor. Lucian è disponibile, se gli Azure non lo prendono adesso e lasciano Lucian, Roma e Clash, possiamo andare direttamente al terzo game. Potrebbe effettivamente essere questo. Giustamente gli Azure hanno capito che devono effettivamente giocare un Lucian che poi ha finito portare alla vittoria. Adesso staremo a vedere quali saranno i prossimi bann, ma soprattutto il pick... Ezreal Brom. Puoi andare tranquillamente di Ezreal Brom per rispondere a Lucian. Che è quello che avrebbero dovuto fare i Azure nella draft precedente. In quella precedente era stato bannato Brom da parte dei Clash, se non sbaglio. Ah, è vero. Clash hanno bannato Brom, è vero. Aspetta. C'è un no verso il Nunu. Nunu è dannatamente forte in questa patch. Eh, ma... Ah, peccato, volevo il Nunu e lo matto. No, volevo il Nunu e lo matto, peccato. Brom. Ezreal Brom, come ti dicevo, era... Assolutamente. Il gioco di pick, ma ovviamente... Brom è quello selezionato dai Clash a Cavani. Più che altro il problema è che qui non puoi lasciare Brom di fianco a Lucian. Quindi non avendo bannato Brom, avendolo bannato nella partita precedente, non vuoi che gli avversari mettano le mani su questo campione e lo vai ad associare ad Ezreal. Ricordiamo Ezreal Brom sinergica come coppia, data la possibilità del colpo mistico di Ezreal di applicare corpi stordenti. Eh... Thresh, ok. Ti piace questo Thresh? Sì, la Wave Steel Bottom Lane ormai standard e c'è la conferma su Kartus. Kartus tornerà in giungla Perugia, non lo sappiamo. Potrebbe arrivare nelle mani di Beso, ma sappiamo che non sarà un Kartus bot. Già. Lucian top, Kartus bot. Oddio. Eh, ma sai... Eh... Non lo so, staremo a vedere, perché effettivamente possono flexare tantissimo questi due campioni, possono effettivamente, ma il discorso non è tanto se puoi o meno, ma se te lo puoi permettere. Eh... usciamo dalla draft, così mi sembra... Sì, sono accorti che c'è stato un misunderstanding e Kartus non doveva essere giocato. Niente, a quanto pare c'è stata un... è crashato il PC a uno dei giocatori, purtroppo. Ogni tanto succede, ragazzi. Capita. Succede anche ai migliori e quindi stiamo aspettando di tornare in partita. Tempo al giocatore di riprendere possesso del suo PC. Di conseguenza, non essendo un problema legato alla draft, la draft rimarrà tale e quale. E quindi abbiamo confermati Lucian e Thresh, ottima bottom lane per quanto riguarda gli Asura, che possono finalmente applicare pressione su una loro lane, cosa che è mancata totalmente nella partita di prima. E questo darebbe la possibilità eventualmente a un Kartus da corsia centrale, una volta rimossa la minaccia di Leblanc, di essere efficace. Ok? Perché è stata rimossa Leblanc e è stata rimossa anche Akali. È stata rimossa Akali secondo... Era Akali, Leblanc e... La prima Irelia. Irelia, giusto, giusto. Scusa, mi dimenticavo i banna degli Asura. Sono qui apposta, non ti preoccupare. Grazie, grazie. Sono qui per te. Stavamo dicendo, effettivamente le possibilità iper aggressive sono state leggermente ridotte da parte della corsia centrale. La cosa che mi preoccupa da parte di Col è contro un eventuale Kartus mid e Xerath. Abbiamo visto Col giocare Xerath. Già, già visto. E sappiamo che Xerath è problematico per Kartus. Sì. Ha più waveclear, ha più range, ha più... Pressione globale no, perché la Suprema di Kartus è effettivamente... È effettivamente o pressione globale. Però dipende dallo scaling. Sai, Kartus deve attraversare una fase di costruzione mana con l'abbraccio serafico e eventualmente anche un bastone secolare che Xerath bypassa totalmente. A lui basta un eco di Luden. Sì, effettivamente l'unico vero problema adesso per Kartus è effettivamente il tempo di costruirsi l'arma finale che poi è la R. Essenzialmente la R può essere usata per engage, per chiudere le kill in mezzo al file. Può usarla come vuoi, gira rigira, serve a chiudere la kill. Tendenzialmente quello che vuoi fare qui è mettere Kartus in una situazione comoda. Già il fatto di aver visto Lucian in corsia inferiore mi piace, proprio per lo stesso discorso che facevamo prima. Prima non era Kartus la cattiva idea, ma era quello che era stato costruito intorno a Kartus, ok? E come, non lo so, comprare dei cerchioni nuovi, bellissimi, tutti cromati, sai, con gli effetti, e poi rendersi conto di avere un cavallo a casa. Dici, aspetta, dove li metto? Le istruzioni delle case non sono pervenute. Le istruzioni non sono chiare, mi è rimasto incastrato il cavallo nell'elicottero. Parlando degli Asura, con Lucian possono andare ad aggredire la corsia avversaria con un Ma. Effettivamente Brom ha una capacità di peeling gigantesca nei confronti di Lucian e questo porta Ezreal a poter scalare. E anche Ezreal adesso ha uno scaling, grazie al nuovo Ability Power, allo scaling sul potere magico della W e alla nuova Suprema, Ezreal è micidiale. Ezreal fa un male assurdo. Esatto, micidiale, infatti ne parlavamo per l'appunto in pausa, poter vedere effettivamente un Ezreal in azione, presa 1-2 kg nella corsia inferiore o in qualunque corsia esso venga collocato, gli permette di essere molto, molto oppressivo sulle torri. Torri che, tolto il 15 minuto, letteralmente vengono sciolte. Anche perché abbiamo visto una volta che il Messaggero della Landa nella partita precedente aveva aperto la torre iniziale, quanto efficacemente siano state presse la seconda e la terza, i Clash sono arrivati all'inibitore mi sembra intorno al 15esimo minuto, quindi è normale che quando l'anello esterno viene solidificato per permettere una fase di corsia più marcata, quando quella fase di corsia finisce per delle forzature esterne, tipo 6 kill su Leblanc al terzo minuto, una roba leggera. O propriosa. Sì, no, devo dire che ci sono state alcune scene molto violente. Horror, horror splatter. Peggy 18, horror splatter da parte della Leblanc di Coll, Leblanc che come dicevamo è stata rimossa. Lux potrebbe arrivare, Morgana potrebbe arrivare, ricordiamo Morgana, anche lei un'ottima arma contro Carthus. La possibilità con lo scudo scuro di vanificare il rallentamento del muro del pianto porta Carthus a non avere un lockdown efficace su Morgana. Se Carthus dovesse finire di nuovo in giungla ci sarebbe di nuovo Xinzao, l'abbiamo visto selezionato. Prima di uscire dalla fase di draft l'ultimo lock del team Clash per la prima fase di draft è stato Xinzao, quindi ancora una volta Xinzao da problemi in early game a Carthus. E quindi questo Carthus dove lo vogliamo? Dove Carthus lo andiamo a posizionare. Top a questo punto? Corsia lunga, credibile anche questa da Xinzao. Xinzao può andare ovunque, Frozen Renga può andare ovunque in questo momento, può letteralmente andare ovunque. Sì, veramente tanti punti di domanda su come andranno a chiudere la draft. Perché a questo punto giocami un Carthus Tamquench bottom lane, piuttosto che giocare la scaling lane su Sivir, giocami una scaling lane su Carthus. E lasciare un Lucian Brown nelle mani dei Clash Academy? No, no, parlo ancora della partita di prima. Con la partita di prima, con Lucian bannato e Tamquench disponibile, giocare in Carthus Tamquench e non mettermi una bottom lane così fragile. Anche perché Carthus Tamquench hanno un'interazione interessante. Quando Carthus va ad attivare il proprio danno d'area e Tamquench lo va a divorare, mantiene attivo il danno d'area, quindi si può creare quel connubio interessante dove Tamquench va a divorare Carthus, si butta in mezzo al team nemico e inizia a fare una balanga di danni ad area con due barre degli HP, poi c'è Carthus, si mette in stasi. Praticamente ha vinto un teamfight solo con queste due combinazioni dei due. Come dicevi giustamente prima, il problema non era Carthus ma ciò che hai costruito attorno a Carthus. Stiamo aspettando informazioni su Gotrek, il suo PC sembra essere esploso, anche quello non è riuscito a sopportare la violenza protratta da parte del suo mid laner nella partita di prima, però nessuna news al momento, stiamo aspettando che si riconnetta e quindi... E quindi domanda, domanda per te, ho questa domanda che... Allora, qualora Carthus tornasse in giungla, cosa devono fare gli Asura per evitare il game precedente? Smettere di mettere Carthus in giungla? No, ok, questa era la risposta poco seria. La risposta seria invece è una mid lane con priorità. Come fai a prendere una mid lane con priorità? Wave clear. Dove trovi il wave clear? Lo trovi... Ah, piccola parentesi che non abbiamo fatto nella partita di prima. Non a casa di Beso. No, 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 nella partita di prima Beso purtroppo... Va cambiato registro, va cambiato registro. Voglio dire, nella partita di prima contro le Blanc giocami Cassadin. Cassadin è forte, tanto forte in questa patch. Sono due patch in realtà che Cassadin è molto forte come mid laner ed è un counter diretto alle Blanc, perché la possibilità passivamente di subire, grazie alla sua passiva, il 15% di danni magici in meno, più uno scudo magico associato alla propria Q, vuol dire che il trade aggressivo di Le Blanc viene vanificato per quasi metà del danno totale che può avere. Sì, puoi permetterti anche di ribattere addirittura il danno di Le Blanc e diventare tu l'aggressore. Da Preda a... Predatore, posto che me la vuoi giocare da scaling e posto che hanno draftato solo scaling, prendi anche Cassadin e dici. Ragazzi, speriamo che loro non vincano in 25 minuti in cui noi non giochiamo e poi potremmo forse vincere. Stiamo ancora aspettando conferme... Ok... Ok, 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 sta tornando. Sappiamo che il giocatore è tornato in possesso del proprio PC, quindi intanto io andrei a lanciare un doverosissimo spam di F per il PC di Gotrek che ha dovuto subire tanto, ha dovuto subire davvero tanto lungo questo torneo. Ha subito molto. Sì, che effettivamente adesso sto pensando al punteggio di Gotrek e ai Clash sono morti più PC che mid laner in questa knockout stage. Esattamente, il che è un ottimo dato per i Clash. Ma per l'appunto Gotrek, parliamo un attimo, approfittiamone no, di fare un'analisi a 3,60 della partita che abbiamo visto e possiamo promettercelo. Gotrek non è stato super attivo, ma è stato un ottimo affiancamento, indubbiamente. Allora... Più che altro, la poca attività di Gotrek non penso che dipendesse da Gotrek stesso quanto dal pick, ok? Sì. Quando tu vedi che hai un mid game dominante sulle blank, vuoi giocare un gin da utility. Quindi non giochi gin esposto per fare DPS, tu vuoi che il tuo gin sia uno strumento di controllo della distanza e per avere questo semplicemente vai a inserire il florileggio letale e la chiamata alla ribalta come unici veri apporti di gin alla partita. È una strategia standard, ok? Tu giochi mid game intorno a gin e se il mid game va bene, allora hai gin da utilità. Se il mid game non dovesse andare bene, giochi gin da scaling molto aggressivo e cerchi di fare DPS. È anche questo che rende gin un tiratore forte, la sua versatilità e lo scaling di gin con il raccolto scuro è immenso. Anche da outfixato, è immenso. È immenso. Dunque, 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 vediamo un attimo, effettivamente dovremmo avere il giocatore ad un'ata. Ok. Quindi dovremmo esserci, manca poco. Parlando di seconda fase di pick, perché comunque la prima fase si era conclusa, i pick abbiamo visto i ban. Intorno a quelli, penso che ancora una volta i clash vogliono mettere in zona di comfort gabbo e una volta che è stata bannata Irelia e una volta che è stata bannata Leblanc, sulla corsia superiore potrebbe tornare Urgot, che abbiamo visto non selezionato da parte degli Asura. Non ancora. Hanno chiuso tutti e due, hanno chiuso la parte inferiore della corsia. E per quanto riguarda la fase di ban, potrebbero bannare Urgot proprio in vista di una possibile selezione. Qualora bannassero Urgot e Gabbo dovesse giocarmi Mordekaiser, raccolto oscuro, colpo di scudo in corsia superiore, potrei piangere dalla gioia. Sarebbero tante, tante lacrime di gioia da parte mia. È un campione forte, è un campione che può oggettivamente snobollare una partita, se riesce, come qualsiasi campione, utilizzi il raccolto oscuro. C'è stata una discussione pubblica da parte della fanbase di League of Legends, dove effettivamente c'è stato uno spunto di conversazione interessante. Quando esiste qualcosa di veramente veramente sbroccato, paradossalmente il gioco sembra più bilanciato. Perché quando il gioco è bilanciato veramente, ci sono un paio di campioni che possono abusare di alcune combinazioni per essere al di sopra del meta. Quando tutti possono abusare della stessa cosa, allora il gioco sembra tutto equilibrato, tutto a tutti. Perfettamente bilanciato, come tutte le cose dovrebbero essere. Eviteremo di distruggere metà dell'universo dopo questa frase, però al di là di questo... Ok, 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 sta entrando finalmente in partita. Dovremmo esserci, finalmente. Abbiamo notizie, abbiamo proprio notizie così in tempo reale, da sapere che il giocatore sta digitando la sua password sul client in questo esatto istante. Che dettagli, che efficienza. La regia di PGE Sports è sempre sinonimo di qualità. Esattamente. E... Comunque... Non vi possiamo dire che cosa hanno appena detto gli Asura in merito. Comunque, per quanto riguarda la partita, ok ban su Urgot, forse potrebbe addirittura arrivare un ban su Mordekaiser e ban invece su Jax. Ecco chi altro va abbannato. Vero, mancante, Jax, nella vita precedente potrebbe effettivamente presentarsi ora che ci sono stati già fatti dei ban che non lo riguardano. Ma direi, torniamo in draft e discutiamo della draft in quale totale. Esattamente. Come Tournament Realm vuole, quando si va a ripetere una draft effettivamente i pick sono già preimpostati. Quindi noi li vediamo lì, ma questi sono i pick della draft precedente. Si stanno ripetendo i ban e poi verranno ripetuti i pick. Sono lì come segna posto, diciamo. Per ricordarsi, qualora qualcuno cercasse di cambiarle o magari di dimenticarsene semplicemente. In realtà è una nuova tecnologia che abbiamo sviluppato qui in PG Esports chiamata Tubo Catodico e quindi le immagini rimangono in maniera impresse indelebili. Esatto, esatto. Banna incredibile, Akali bannata. Tanto i bann li avevamo già visti, quindi quello che ci preoccupa è la fase successiva. Stiamo a vedere dopo cosa effettivamente. Sto pensando perché effettivamente gli Asura non possono bannare tutto. Non possono bannare sia Urgot che Camille che Jax. Quindi uno dei tre rimane aperto per Gabbo. E quindi Gabbo avrà... Gabbo può. Gabbo può. Gabbo può. Questa frase riduce tutto il nostro. Un nuovo hashtag Gabbo può. Hashtag Gabbo può. Per quanto riguarda invece Grobo, Grobo l'abbiamo visto subire tanto da Gabbo durante la stagione... Chiamiamola stagione regolare. Group stage, ecco. Sì. Quindi penso che ci sia da parte di Grobo anche mancanza di volontà di giocare aggressivo contro Gabbo. Di conseguenza se non vuoi giocare aggressivo giocami un top laner da scaling. Giocami klepto gangplank. Sì. Qualcosa di comunque che può effettivamente confrontarsi con quello che nelle mani di Gabbo è un top laner. Che non solo è oppressivo ma l'hai visto anche con i diversi TP, diverse flancate, si è portato accato a diverse kill. Poi Tanatofobia. Banna su Yasuo. Ok. Quindi abbiamo il banna di Urgot. Quello era telegrafato come stavamo dicendo. Però adesso a specchio della draft precedente. I clash hanno vinto. Sì. Perché non devono cambiare niente. Squadra che vince non si cambia. Partiti scherzi. Banna di Urgot per l'appunto come avevamo detto precedentemente. Banna di Aatrox. Ok. Non vogliono lasciare la possibilità a Beso di morire altre sei volte nei primi dieci minuti come nella partita precedente. Quindi va bene. Banna di Camille. Come ti dicevo c'è Jax Open. Eh già. Jax. Jax. Ti prego. Jax palesati. Anche perché in questo modo. Oh. Va bene. Va bene. Va bene. Già visto. Va bene. Qui già sento gli echi nel retro della mia testa. Oh mio Dio. Sento l'apo che dice. Lapo che dice. Godric cappresso Swain. Godric cappresso Swain. Ora va bene. Non sarà lui a giocarlo. Già. Quello sarà un Swain per la corsia superiore a centrale. Comunque interessante perché è pick flessibile che lascia la possibilità di counter pick a una qualsiasi delle solo lane dei clash. I clash stanno draftando bene. Stanno draftando bene. Stanno draftando bene. E attenzione perché questo è effettivamente un ruge con un nocturne. Un jungler con cui effettivamente si trova più a Pobloage. Quindi fortunatamente non è Kartus in giungla. E quindi a questo punto Kartus mid. Perché Kartus stop contro Xin Zhao non lo voglio vedere. È una corsia lunga. Se Kartus non rimane sotto torre a farmare. Xin Zhao può aggredirlo in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. E arriverebbe comunque un dive. Presto o tardi. Ah parentesi. Il fatto che Frozen Ranga in questa patch vada a divear e Kartus stop. È Kartus stop. Eh dai eh. Eh Kartus stop. Però aspetta. E se fosse un Lucian top klepto e Kartus e Trash in bot. Sarebbe la cosa più bella che potesse capitare in questa draft. Abbiamo visto un over su Lux. Mi piacerebbe tantissimo ma non sarà Lux. Zoe racconto scuro. Orjan. Vladimir che schifo che tu segue la cosa. Ehh. VLADIMIR. Torna il Conte Dracula. VLADIMIR. Amo quel campione. Esattissimo. È il mio campione preferito. Chi mi segue lo sa benissimo. Ormai. Però, sempre, tessute tante lodi nei confronti di quel campione disgustoso. È orribile. È orripilante perché è qui. Cosa ci fa ancora nella Champion Pool. Parti di scherzi è un Victor che comunque è nelle mani dei Clash Un Vladimir È un Vladimir nelle mani dei Clash Eh, mi avevi detto Victor, sì, ti eri confuso tra Ah, è un Victor Vladimir Un Victor Vladimir Victor ha creato Vladimir Comunque detto questo, è un Vladimir nelle mani dei Clash E effettivamente se va a finire come il match precedente Call dal torno ci ha dimostrato che campione per campione l'importante è uccidere Allora, qui Clash hanno, secondo me, una team comp molto interessante, ok? Perché hanno uno scaling sul danno magico elevatissimo Hanno Xin Zhao che può gestire due lane Che hanno comunque bisogno di qualcosa che vada ad adagiare il loro compito nelle fasi iniziali Ezreal Brom molto buoni sulla corsia inferiore Mentre dall'altro lato alla fine gli Asura decidono di mettere Kartus sulla corsia superiore Questo che cosa significa? Significa che tu prendi Nocturne e o lo sposti sulla corsia superiore già nei primi livelli Pur di mettere Kartus in vantaggio E questo lo porta a non poter power farmare verso il livello 6 Di conseguenza un Nocturne sacrificato in funzione di un campione Che non sto dicendo sia sbagliato, eh Non prendete questa parola sacrificato come una parola forte Sacrificato significa che tu scegli dove mettere le tue risorse Potresti metterle in giungla, potresti metterle top Se top le risorse fruttano allora è stato un investimento, non un sacrificio Se non fruttano è stato un sacrificio È stato un sacrificio, quindi morte totale Per quanto riguarda però appunto Kartus Nocturne Tu stai potenzialmente rinunciando al power farming di Nocturne Per però un'abilità interessante Ovvero la doppia possibilità di aggressione globale che Kartus e Nocturne ti offrono Tu hai un bersaglio che in qualsiasi punto della mappa dal nulla potrebbe vedersi arrivare Il Requiem sulla testa e poi un Nocturne che ti plana addosso come un razzo E quindi si porta a casa la kill Anche perché Nocturne più Draktar più o meno già dai primi livelli può effettivamente fare la differenza Per quanto riguarda invece la corsia inferiore abbiamo ovviamente Lucian con l'attacco sostenuto Non va a selezionare la Kleptomanzia in corsia inferiore perché ha bisogno di quella runa aggressiva Kleptomanzia invece ovviamente selezionata da Ezreal che sinergizza benissimo con la nuova iterazione di questa abilità Vladimir scatto fasico e questo mi interessa perché vuol dire che Cole vorrà giocare un Vladimir da teamfight Vorrà giocare un Vladimir che non punta tanto all'aggressione sul diretto avversario essendo un Malzar Ma punta su quello che gli abbiamo visto fare nella partita precedente Ovvero essere in vantaggio, entrare in un teamfight, vincere il teamfight E pensa adesso che c'hai il sangue come risorsa andare a poccare di cuo ogni qual volta si avvicina il povero Malzar Il punto è che Malzar dalla sua è un'interazione particolare tra i due campioni Perché comunque Malzar vuole farsi forte dei Voidling, i pippottini del vuoto ufficialmente ribattezzati Poi c'è anche quello scudo che gli può permettere di... No, più che altro proprio sui Voidling volevo concentrarmi perché i Voidling vengono facilmente puliti dalla nuova di sangue di Vladimir Di conseguenza Malzar deve utilizzare i suoi cooldown in maniera molto oculata in funzione del kit nemico Se Malzar riesce a utilizzare nei primi livelli, che sappiamo essere la debolezza principale di Vladimir Campione che scala molto bene con i livelli Troppo bene Se riesce a utilizzare correttamente i propri Voidling può prendere priorità di corsia E quindi sollevare il resto dei suoi compagni di squadra dalle pesanti responsabilità di cui discutevamo prima Gli Asura a questa draft mi piace molto più della precedente Hanno aggressione in giungla, hanno aggressione bot, hanno potenziale priorità su una delle solo lane E quindi c'è da vedere come se la caveranno Però c'è una cosa che effettivamente mi preoccupa Il PC di Gotrek Il PC di Gotrek Ragazzi, quindi stiamo aspettando un attimino per rientrare in partita Ma cosa più importante? Hai effettivamente un potenziale di burst, esplosivo da parte di Asura parlo Molto importante con il Requiem e ovviamente l'assalto da parte di Nocturne Poi c'è anche Malzar che con la sua Ultimate può effettivamente fare la differenza Ora la mia domanda è Queste risorse su chi tenti di provare Ovviamente Ezreal sarà il main target con Nocturne e Requiem Ma Malzar come ci arriva? Dov'è che andranno? Esatto, è quello il fatto Com'è che ci arrivano? Allora, Swain di base alla sua trasformazione demoniaca Ascensione demoniaca ti trasformi in un drago grosso Drago abbiamo già visto la skin e noi siamo pieni di spoiler sulla cosa Ti trasformi in un drago gigantesco e diventi molto più difficile da uccidere Anche perché basterebbe anche un cronografo per prendere tanto tempo nelle fasi iniziali E anche andare a parare l'impatto iniziale del paranoio di Nocturne Già sarebbe una grande risorsa Xin Zhao dipende Non so quanto efficacemente Nocturne nei primi livelli possa andare a counter-junglarlo Per quanto riguarda Vladimir, pozza di sangue e lui dice Oh, Carthus, ho visto che stai ultando E Nocturne non ci si avvicina neanche ovviamente a Vladimir Ezreal Brom è molto complicato da gancare come corsia Perché da parte di Ezreal abbiamo lo spostamento arcano Che può essere seguito dallo stand behind di Brom Ed in conseguenza hai una doppia motilità su questi campioni Che a quel punto non... Non sono facili da credire per un semplice motivo Il lockdown è molto dipendente da Thresh E Thresh contro una lane così mobile effettivamente deve giocarsela veramente veramente bene Vedremo se riuscirà ad assestare Reiteriamo un concetto, purtroppo il PC di Gotrek è esploso ancora una volta E quindi stiamo aspettando che il giocatore torni in partita prima di entrare sulla landa Staremo a vedere Allora, sto guardando un attimo... Effettivamente sono grossi I Clash Academy in fase di front line sono veramente grossi Tra l'altro Draghi per Swain e Ammazza Draghi per Xin Zhao Dicotomica, chiasmica, antitetica Potrei continuare a sparare parole a caso All'infinito Fatto sta che però sono effettivamente molto grossi No, sai quella cosa però? Effettivamente la front line è grossa Ma il team degli Asura ha delle ottime capacità di accesso alla backline Grazie appunto a Nocturne e a Carthus Ma soprattutto hanno un'incredibile capacità di pick fuori posizione Se qualcuno del team Clash dovesse giocare fuori dalla visione Dovesse giocare in senso aggressivo, over esteso E sappiamo che gli piace farlo Gli piace tanto Effettivamente la composizione degli Asura potrebbe giocare intorno a quello Potrebbe cercare di prendere uno split pusher fuori posizione E aggredirlo in 4-4-8 Anche perché Carthus non ha bisogno di spostarsi da una corsia per dare contributo globale Potrebbero cercare di andare a derivare la backline E a quel punto Morto Gotrek Il DPS dalla distanza diventa solo magico da parte dei Clash E tu puoi andare a itemizzare contro il danno magico Vero, ma Non hanno dei tank Dal lato Asura non avere tank ovviamente porta la valanga dei danni di Clash A farsi sentire Il punto è vincere la partita prima che la possano vincere gli avversari Per quanto la palissiana possa sembrare questa frase I Clash arrivano a un certo punto del mid game che saranno inarrestabili Tra il terzo e il quarto oggetto Deve uno semplicemente arrivare al terzo e quarto oggetto e saranno inarrestabili E come hai detto tu stesso I Asura hanno optato per un'ottima draft Questa volta a questo giro un'ottima draft Però hanno scelto di avere una composition con una finestra di tempo Poco poco più larga Ma veramente stretta Perché devono entrare e inferire in quel momento Tolti ulti di Kartus e ulti di Nocturne Diventano in balia Quindi devono ottimizzare lì Un'uccisione Tolta quella Sai un po' come si dice di Nocturne? Resisti a Nocturne alla sua ulti A quel punto è facilmente deletabile E qui è bello anche il fatto che gli Asura siano andati Senza bannare Brom a selezionare in prima rotazione Lucian Obbligando il pick di Brom dall'altro lato E quindi andando anche a rimuovere la possibilità di Tahm Kench Tahm Kench avrebbe reso questa combinazione praticamente inutile In fasi più avanzate Per Tahm Kench bastava stare di fianco a un avversario Arrivano Nocturne, arrivano Kartus, arriva la corazzata Potionchi Io ti mangio e ti salvo Esattamente Nega totalmente tutti i danni della squadra avversaria Stavo pensando effettivamente ad altri possibili setup Però effettivamente non me ne vengono in mente molti Quello che vediamo è che da parte di Malzar C'è uno smaterializzatore di Minion tra le rune Quindi abbiamo un Malzar che a differenza della partita precedente Una se ne è giocata Vuole trovare priorità di corsia E questo è interessante perché Parlavamo come Malzar dovesse in questa partita avere priorità di corsia Secondo te basterà l'aggressione in corsia da parte di Malzar a sollevare Nocturne dalle responsabilità sul lato inferiore di mappa? Dipenderà da Nocturne perché effettivamente per quanto rischia l'aggressione da parte di Xin Zhao Se giocato come deve essere giocato Chiuso già un primo oggetto Con il FIAR Può effettivamente fare la differenza E andare a chiudere delle kill Stesso va anche per la mid lane Vedremo Staremo a vedere Scenario interessante Scenario interessante che a breve dovrebbe palesarsi di fronte ai nostri occhi Effettivamente Gotrek sembra essere tornato in possesso Del suo PC E quindi signore e signori Siamo sulla landa degli evocatori Ed eccoci qua dunque siamo effettivamente qui con Trimby e Blackout Rispettive backline della corsia inferiore a salutarsi Arriva giustamente Gotrek come ha detto giustamente Garen Ha di nuovo un PC Incredibile Mandate la vostra energia ragazzi da casa E intanto oltre alla vostra energia Una cosa ci siamo ancora dimenticati oggi di chiedervi Secondo voi Riusciranno gli Asura a recuperare la situazione? O saranno i Clash? Sta iniziando lo stesso? No ok Almeno stavolta Beso aveva uno spell shield per non farsi aggredire subito Ottima la scelta di Malzar per questo Ottimo Malzar Hashtag ASR win Se pensate che gli Asura possano regalarci una serie combattuta O hashtag QLS win Se pensate che i Clash continueranno questa valanga che è iniziata nel promotion tournament Esattamente A questo punto direi che Predator sia più un tag per i Clash Academy Esattamente Vediamo col Beso E qui c'è un Red che viene startato giustamente da Froserega Gabbo che va ad aiutarlo Allora Carthus già in lane Setup iniziale da parte dei Clash Non solo per Carthus già in lane Ma tendenzialmente quando Xin Zhao starta dal Red Vuole ganchare al 2 Sì sì Eccolo È già lì Ovviamente Grobox dovrà stare molto attento Perché a quest'ora A questo punto non ha più Ma viene stunnato Arriva anche il knock up Eccolo qui Inutile il flash Ultimi colpi Ed è un primo sangue A uno Xin Zhao Puoi ricordarmi le esatte parole che ho pronunciato riguardo Carthus in corsia superiore? Beh allora se non sbaglio mi hai detto che se veniva piccato moriva Ok Ho detto qualcosa del genere? Sì Una cosa un pochino più ristretta Hai detto se Overstand Sbaglia Aggressione morte Bene Bene Questa è il riassunto versione famiglia E quindi niente Grobo e Carthus top Grobo e morto top Xin Zhao starta da red Lo sai Era qualcosa di telefonato Swain sta arrivando in lane tardi Mentre la duo lane è già in corsia Quindi sai che Frozen Renga è iniziato dalla robo bestia cremisi Sai che è il potenziamento rosso E sai che Xin Zhao ganca al 2 Già E intanto però abbiamo visto uno scorcio di un reto Dai dive al 2 Mobba dive su Carthus Attenzione perché Frozen ci ha regalato un buon dive Ovviamente potrebbe andare a piazzare volume di controllo Così non è perché c'è un Uge Attenzione Uge Potrebbe addirittura farsi stilare questo blue map Occhio a Malzar sta ruotando Si sta ruotando Gli va incontro a Pocomana Parte subito di Cuccia E il Fierce di Uli Costretto Giustamente al flash Gabbo va di backup Cerca ovviamente di salvarlo Uge rincorso Beso flash Si butta dentro Frozen Renga Va ovviamente di smite Per recuperare vita Tutti dentro Ma il primo a morire È proprio Frozen Renga E molto probabilmente Questo è un panino Per i Clash Academy Che sono costretti A flashare A spendere A sprecare risorse Per scappare Uge si porta avanti Con la sua Q Velocissimo Gabbo giustamente Trova grip Non c'è E riescono comunque a salvarsi Error Difensive sul posto Da parte di Gabbo Brutto brutto errore Ma più che errore Penso che sia stata Mancanza di informazioni su Uge Il posizionamento di Xin Zhao Era orientato Verso la potenziale mancanza Del jungler nemico Lì in zona Brutta La gestione Della wave Da parte di Coll Non aveva la pressione corretta Beso aveva congelato Molto bene la corsia centrale Prima di spostarsi E infatti come vedi Non ha perso né farm Né esperienza Questo da parte degli Asura È stata una bellissima lettura Di partita Bravi Ottima lettura Ovviamente hanno capito Che Frozen Renga Sarebbe rimasto Nella corsia superiore Della giungla Per cercare di rubare Quante più risorse possibili A un Okurum Che già partiva Svantaggiato di una kill Sono invece riusciti a chiudere Qui invece vediamo un Gotrek Ai limiti del consentito Anzi oltre i limiti del consentito Lucian Esattamente Lucian e il suo POC Si fanno avanti Q che ovviamente va a vuoto Blackout Trova il gancio Su Trimby Che giustamente Si porta in scudo Ma a Rekhi Non gli interessa Trimby Cerca e trova Gotrek C'è Xinzao in zona Potrebbero chiudere su Blackout Ovviamente Blackout viene rallentato Q anche di Gotrek C'è il level up Che però dona Un po' di exp E vita Trimby viene nuovamente Agganciato È un paletto A quest'ora Giustamente per Blackout Che trova due ganci su due Bravo Blackout L'abbiamo visto Questi support da playmaking Sono la sua zona di comfort Se gli banni Blitz È un terzo Viene portato avanti Costretta la summoner Dell'Ial La cura Nonostante l'ustione Si salva Sempre per pochi HP Lo stesso Trimby Arriva anche Uge Adesso Counter jungling Da parte sua Frozen Renga Cerca di contestare Sul gromp Ma Uge Ha vantaggio in livelli E soprattutto Trimby È praticamente morto Piazza un lume Per assicurarsi Che Uge Non vada a divarli Però arriva adesso Visione su di lui Devono indietreggiare Perderanno una valanga Di risorse I clash qui Esattamente Tra l'altro Call bruciato Frozen Renga Riesce Trova lo smite Sulla rana Uge Trova il fear Sullo stesso Frozen Renga Tutti dentro E questo è oltre il dive Perché superano Completamente Flash di Rakhi Ultimo colpo Il gancio non lo trova Ma c'è una double kill Per questo Luciano Questo Rakhi Che si porta a casa Prima Frozen Renga E poi Trimby E pausa Pausa Ladies and gentlemen Con i clash Che stanno lanciando Tutto alle rose Devo dire che Non mi aspettavo Questa aggressione Da parte Degli Asura Gli Asura Hanno letto bene Midlane Hanno giocato molto bene In funzione di Malzar Beso lo stiamo vedendo Prestante Beso mi piace molto Come sta giocando Questo Malzar Perché anche nell'azione Che abbiamo appena visto Beso Ha chiuso Lo spostamento di Call E è andato a negare Completamente La possibilità di aggressione Da parte del midlane All'avversario Il supporto per l'appunto Frozen Renga Quindi 1v1 Uge forte anche Del blue buff Appena stilato A quel punto Non è stato il free kill E devo sottolineare La prestazione Effettivamente Di questo Nocturne Che se la sta giocando Molto bene Sì Più che altro Nocturne Appena ha trovato Quelle risorse Su Xin Zhao In early game Sta riservando a Frozen Renga Il trattamento Che Frozen Renga Ha riservato a lui Nella partita precedente È così che devi giocare Soprattutto È così che devi giocare Blue side Sai di avere vantaggio Sai di potertelo permettere Il blue side È un lato della mappa Che ti permette Di sfruttare molto bene Un vantaggio iniziale Dato il posizionamento Di determinati obiettivi E soprattutto La collocazione Degli ingressi in giungla Beso contro Per l'appunto Beso aggressivo Come tu giustamente detto In fase di draft Questo è quello che deve fare C'è nuovamente Un gancio Su Trimby Da solo Così nella giungla Arriva Cole A fornire supporto Scatto di Trimby Però il FIAR Ovviamente ha trovato Connessione Non ha di fatto Perché arriva anche Frozen Renga A fornire supporto 3v3 Abbandonano l'aggressione I Yasura Ok Il supporto Grobo Intanto aggredito Da parte di Gabbo Attenzione Potrebbe cercare Non l'in Gabbo è dentro C'è anche la ultima esplosione Un auto attack Forse più Non trova purtroppo La kill su Grobo Che è costretto Giustamente a tornarsene Con la coda Tra le gambe Si sposta poi Immediatamente Sul lato interno Della sua mappa Grobo Si era reso conto Che c'era la possibilità Di aggressione Da parte di Xinzau E quindi non vuole rischiare Buono in questo Mi piace la gestione Della corsia Che sta avendo Con un Kartus Che ha semplicemente Bisogno di scalare Attenzione Qui Gotrek Trova Vincente Teleport Quindi Blackout Fallisce Quello che potrebbe essere Un brutto grab Però adesso vediamo Perché ora abbiamo Effettivamente Da mettere In sacca Queste due kill Su un Raki A cui effettivamente Non aiuta La lane Attenzione Niente Largo di poco Luncino La sentenza di morte Stavolta Non connette Blackout Sta utilizzando a cooldown Quella abilità Proviamo questo suo spirito Di aggressione Assolutamente Sì Gotrek Addirittura Va da subito Verso armatura Ovviamente Si porterà Verso il guanto Del gelo In modo da gestire L'early game Di Lucian Lucian Che va Già pressante Sulla struttura E crolla La prima placca Difensiva Eh già Prima placca Che crolle Soldi Qui giustamente La torre Risponde a Raki Un piccolo colpo Ai propri danni W che connette Su Blackout Nulla di fatto Gotrek Deve soltanto Farmare Ma non glielo Lasciano fare Ezreal Ok La possibilità Di continuare A staccare Cleptomancia Per rimanere Significativo A livello Di introito Monetario Però Quanto sta Soffrendo Questa lane Qui Gli Asura Grazie al pic Di Lucian Si stanno mettendo In una situazione Eccellente Sarà una partita Totalmente diversa Rispetto a quella Di prima Kartus Sta farmando In tranquillità L'hanno aggredito Ed è riuscito A salvarsi Non ha dovuto Sprecare il flash Uge Ha trovato risorse In early game Sta andando Tutto secondo i piani E anche il gold lead Per quanto non entusiasmante Come quello dei clash Nella partita precedente Comunque Lato Asura Esattamente Lato Asura E per l'appunto Voglio farti notare Questo beso Inizialmente Non mi convinceva troppo Perché è vero Stava riuscendo A tenere Bene la lane Ma con un apporto Di mana esagerato E invece adesso Dopo subito un recall E i nuovi oggetti Nelle proprie tasche Ora tiene sotto scacco Questo vladimir A cui non dovevi dare spazio Penso anche che sia Non solo gli oggetti Quanto l'aver accumulato Effettivamente La fascia del flusso E quindi avere anche Una fonte di rigenerazione Ulteriore Al proprio interno Poi vedremo appena Verrà inquadrato beso Se la sua barra dei buff Ci conferma La fascia del flusso Sergotrek Intanto continua Tranquilla La sua opera di farm In corsia inferiore Frozen renga Spottato No per poco Non viene spottato Per pochissimo Ma l'ha visto L'ha visto C'è questo agro ganchio Che giustamente finirà Nelle mani di Uge Perché Frozen renga Sa bene che adesso Deve stare attento È un Uge al 6 C'è anche il supporto D'altra parte Grobox Sta spingendo in realtà Gabbo E invece no È Gabbo Che chiude facilmente Questa kill Chiude Connette la sua suprema E si porta a casa Questa kill Uge si fa troppo Forse aggressivo C'è il flash C'è il knock up Sullo stesso Uge Parte il fear Non connette perché C'è Trimmiscato D'altra parte C'è questo Vladimir Che connette Trova Beso Infragrante C'è la kill Ma questo Raki si porta avanti Però adesso è da solo Rischia grosso Occhio Si butta davanti Contro 3 C'è anche la sua suprema Sir Gotthard Che prova La chiude Costretto adesso Al flash Call Quindi 1x1 Qui c'è addirittura La ulti Questo Cartus Che però Non connesse Ma quanto basta Perché nocturne È on fire Si porta a casa Anche questa kill E ora è Drake Cancelliere delle isole L'ombra Qui non lascia sfuggire Un'anima Blackout Con un'azione incredibile Va controingaggiare Nel momento In cui i clash Cercano di chiudere Su Ricky Nulla da fare Connette la sentenza di morte Viene meno il DPS Dei clash Controingaggiano Trova lui la prima kill E uncino dopo uncino Porta anche la morte di Call Blackout Sta facendo un lavoro Sopraffino In questa partita Bravo 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 Riguardiamolo Subito Frozen Renga Va ad ingaggiare su Uge Qui lo sbarramento energetico Connette da parte di Ezra L'abbiamo visto I danni Distribuiti su entrambi gli avversari Trova Call L'uccisione Riesce Ricky a trovare l'uccisione In ritorno E qui dovevano chiudere Invece no Cercano di fare il passo Più lungo della gamba Dalla distanza La sentenza di morte Di nome di fatto Connette Su Sergotrek E Blackout Riesce a portarne una a casa Call Si gira per un millisecondo Aveva bisogno Della trasfusione Per sopravvivere Al Requiem di Kartus Appena tornato in vita Poco importa Perché Kartus Grazie alla precisione secondaria E con quegli assist Dalla sua Dalla distanza Ha già metà del tempo Di ricarica Del Requiem disponibile E intanto Ricky è una furia E intanto Ricky è una furia Letteralmente perché Chiude questa kill Su Sergotrek Quindi nulla Di fatto Altre kill che si aggiungono Ne siamo già a 4 Questa linea Questa corsia inferiore Diventa molto ostica Per quella che era Un'ottima composition Di Brown Ed Ezreal E ora Aggressivo su questa torre Cadrà La seconda placca Soldi in più Nelle mani dello stesso Racky E sono soldi Che ovviamente Fanno la differenza Perché c'è già Una lama del re Nel suo inventario Micidiale Una taglia Da 750 gold A questo minuto di partita È quello che vedevamo Sulle blank Quasi Nella partita di prima Gli Asura stanno trattando I clash in modo analogo A quello che i clash Gli avevano riservato Nella partita di prima Trattamento di ritorno Veramente Sono micidiali Nell'esecuzione E finalmente Stanno facendo valere La priorità di corsia Quello che ti dicevo Essere mancato Nella partita di prima Guarda una draft Diversa Quanto ti sta dando Di diverso All'interno di esecuzione Messaggero della landa È stato appena conquistato Però da parte di Frozen Renga Blackout Cerca l'uncino Non connette dalla distanza Gotrek aggressivo Ma manca le sue skill shot Chiave Vogliono il dive Vogliono il dive Uge si porta avanti C'è questa pink Che giustamente va a spottarlo Rinuncia dunque al dive O forse no Qui butta una Q Giusto Preventiva Vuole il wave clear Adesso Ricky Si porta a difensivo Mentre Oh no Che brutta idea Ricky però si butta dentro Perché Blackout Connetta nuovamente C'è la Suprema Da parte di Braum Quindi riescono Il disengage Ma si butta dentro Uge Trova ingenti danni Anichilito Gotrek E a seguire Trimi Questa è una double kill Per questo Uge Bravi 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 Gli asura Veramente riescono Come la Fenice Risorgere dalle ceneri Teletrasporto Connetta luncino Intanto Gabbo in avanti Gabbo si butta dentro Su Ricky Però c'è Blackout Di supporto La ulti esplode Trova la kill Su Blackout Ma Ricky riesce A fuggire Uge troppo distanza Questo era importante Questo era importante Perché il fatto che Ricky Si è riuscito a fuggire E porta la taglia Sulla sua testa A non essere finita Nelle tasche Di un Gabbo Che avrebbe snobolato All'inverosimile Con quella Anche perché Se abbiamo notato Qui cade la torre Mid va precedentemente Caduta la torre Nella corsia superiore Grazie ovviamente Al messaggero Della Landa Precedentemente conquistato Primo mattone Quindi in tasca I clash Non basta A compensare Il deficit monetario Imposto dal vantaggio Di 9,4 E' un vantaggio monetario Che potrebbe essere placato Dal mettere al segno L'uccisione Su Nocturne e Lucian E Nocturne e Lucian Non sono campioni Noti per lo scaling Questo va sottolineato Gli asura Stanno giocando bene Ma con una composizione Che ha una bomba Orologeria Sopra le loro teste Devono snobolato Per controllare questo vantaggio Hanno tutte le carte in regola Per farlo E qui già abbiamo visto Uno scorcio Dei danni Che può effettivamente Fare Ezreal Connettendo la sua W Saremo a vedere poi In futuro Quanti danni riserverà Alle torri Qui ovviamente C'è uno scambio Swappano Si scambiano di posizione Dunque I vari team Trovando ovviamente Quella che era la corsia inferiore Adesso nella centrale Per i Clash Academy Probabilmente torneranno In top Giustamente lasciando a Vladimir La corsia inferiore Penso che più che altro Qui sia un cercare Di portare le lane in vantaggio Ad affrontare le lane in vantaggio Di conseguenza Tu attualmente Stai mettendo Gabbo Sulla corsia inferiore Cercando di tenere botta Contro Lucian e Trash Ma uno contro due Contro Lucian Che già vanta flaggello E l'ama del re in rovina Dalla sua Non è possibile neanche Per questo Swain Swain ha un mantello Di Negatron Nel suo inventario Era lì già presente Dalla fase di corsia Ed è stato selezionato Per affrontare Cartus in corsia Mantello di Negatron Che però Data anche Dato anche il rubino Ho seriamente paura Si ha una maschera Dell'abisso Potrebbe effettivamente Esserci l'evenienza Anzi Senza evenienza Brutta idea sarebbe Perché voglio dire Esagerare No più che esagerare Andresti ad accumulare Passive uniche Ridondanti con il bastone secolare E quindi bastone secolare Più maschera dell'abisso Non funziona Non hai due volte La rigenerazione HP Che ti dà la passiva Quindi non lo so Non lo so Staremo a vedere Intanto Beso Giustamente si è spostato Nella corsia inferiore Ma come tu stesso Hai sottolineato Ora stanno cercando Di setappare Le varie linee Le varie corsie Per cercare Quante più risorse possibili Intanto però Sul lato centrale Della mappa Rikki continua Aggressivissimo Rikki Sta farmando bene Però la sua taglia Non sembra essere Incrementata Dal vantaggio monetario Rispetto al team avversario Dalla distanza Suprema di Ezreal Serve semplicemente A scautare il Drago Drago che adesso Viene Aggredito Da parte degli Asura Dovrebbero portarlo a casa Senza problemi Esattamente Varie pink Dei Clash Academy Che vanno a prendere La propria Di giungla Ma questo è un Drago Che finisce ovviamente Nelle mani degli Asura Facilmente E insomma Doppio Drago E' perché qui si corre Si corre Si corre Si corre C'è Braum Non connette Il grab di Blackout Ma dentro Si butta Uge Marcella ulti Di Frozen Renga Ad allustanarlo Beso Si lancia Trova ingenti danni Su Zirgotik Costretto alla Summoner Nulla di fatto Riescono a disingaggiare Ma quanti danni hanno trovato? Non sono felice Del disingaggio In questo caso Perché stanno giocando 1-3-1 I Clash Vuol dire che hai Swain e Vladimir Che stanno prendendo risorse Nelle corsie laterali Avevi disponibile la ulti di Kartus Avevi disponibile la ulti di Malzar Il punto chiave Nell'affrontare una 1-3-1 E non permettere al Trittico di scappare Se il Trittico scappa Il team accumula risorse Adesso Gabbo finalmente Si trova di fronte a Ricky E Blackout Quindi ancora una volta Per Swain Non sarà un compito semplice Difendere la propria struttura Siamo al 17esimo minuto Fortificazioni venute meno Però hai dato tante risorse locali a Cole Cole ha preso la struttura In corsia inferiore In maniera totalmente gratuita E indipendente Non hai concretizzato Nonostante l'aver investito Diverse risorse E ok aver portato Incantesimi dell'Evocatore Ma una guarigione E un flash su un supporto Non valgono L'aver concesso Le corsie laterali Esattamente Anche perché è riuscito A colmare il gap Che aveva ottenuto Beso Portandosi quindi Già con un oggetto chiuso Scarpi anche per lui Certo un pochino più avanti Di farm Lo stesso Beso Però sono risorse Che adesso sta accumulando Lo stesso call Il punto è che Lo vedi sul tabellone Ok Se alzi gli occhi sul tabellone Ti rendi conto Che col passare del tempo La pausa aumenti La pausa aumenti E continui ad arrivare È tutto merito del tabellone È tutto scritto sul tabellone No non è vero Abbiamo un copione Scherzi a parte Quello che volevo sottolineare È che fino a qualche minuto fa Gli Asura comunque vantavano Una gold lead Intorno alle 3-4 mila unità Adesso invece Stiamo arrivando Alla fase di mid game Dove la loro gold lead Si sta sottigliando Quando invece doveva incrementare Abbiamo un team che vuole snowballare E non sta snowballando Proprio perché queste azioni Non sono decisive Voglio però spezzare Diverse lance in favore degli Asura Perché è davvero piacevole Vedere un team giocare A questo tenore di gioco Dopo una coccente sconfitta Come la prima Essere riuscito a colmare I propri difetti in draft Ed essere totalmente Rinato come squadra Il punto è che Questa draft È vero che è interessante Però devono iniziare a chiudere Malzar ha un enorme muro Di fronte a sé Che sono le fasce d'argento vivo Vladimir l'ha acquistata Come primo oggetto Aveva bisogno di resistenza magica In fase di corsia E non vuoi che Vladimir Sia passibile di aggressione Con una soppressione Da parte di Malzar Di conseguenza Fascia d'argento vivo Non lo toccherai più Vladimir Assolutamente A breve potrebbero arrivare Anche per i restanti membri Del team E di conseguenza Malzar si trova Di fronte a quell'ostacolo È una R Che viene usata Semplicemente per utility Sì E neanche Cioè voglio dire Purtroppo la fascia d'argento vivo È la nemesi di Malzar È una nemesi costosa Non è un campione È una nemesi che va a ritardare Di 1300 gold Tutto il build path Di un team che è già in svantaggio Quindi Voi virtualmente Dovete prendere Il gold lead Del team Che è a Malzar E aggiungere 5200 gold Che sono le fasce d'argento vivo Che mancano Negli inventari Dei clash Non funziona così Non prendete la lettera Alle mie parole Era semplicemente Un esempio teorico Molto teorico Il punto qual è? Va bene questa fase di partita Però Malzar a un certo punto Si troverà di fronte Alle fasce d'argento vivo Lucian verrà out Scalato da Ezreal Dipendentemente però Dagli oggetti successivi Lucian potrebbe in ogni caso Avere una buona fase di gioco Perché il core centrale Di Lama Del rei rovina E mannaia oscura Lo mantieni Dipende da come vai Dopo di quello Puoi optare per il mid game Col predatore d'essenza O puoi optare per il late game Con archibugio A ripetizione E frammento di infinito In questa partita Considerando Il rallentamento Degli asura In mid game Io andrei per lo scaling Perché Ti sei reso conto Un attimo Che gli avversari Sono in grado di disingaggiare Tu non sei riuscito A chiudere Neanche su brom Considerando che Avevi utilizzato paranoia E riuscito a rallentarlo Col muro del pianto di cartus E riuscito a fare di tutto A quel brom E comunque si è salvato Dall'altro lato Avevo già parlato Della build discutibile Da parte di Gabbo Che sta accumulando Le passive uniche Di due ametiste Degli eoni Però comunque Avrà la possibilità Di amplificare I danni magici Del proprio team Essendo presente All'interno del fight Ricordiamo che Il buff alla suprema Di Ezreal Ha portato ad essere Molto più efficace Nei team fight E il danno Dell'abilità Sia magico La W Danno magico Buffata Con lo scaling a P Ed Ezreal Dato il guanto del gelo E la mana mune Che sta accumulando stack Probabilmente Dovrebbe andare Per la seconda goccia E ai Vladimir Che voglio dire Se tu prendi L'amplificazione Danno ad area Dell'emopiega di Vladimir L'amplificazione Danno ad area Della maschera Dell'abisso Ci aggiungi Lo scaling Di tre campioni Che scalano benissimo Nella fase Mid to late game E metti questo Contro una squadra Senza tank Gli Asura Stanno vincendo Ma se non vincono In fretta Potrebbero perdere Staremo a vedere Se effettivamente Sfrutteranno Quello che è il loro potenziale Adesso Ora Questa è la loro finestra Di tempo Che si sono guadagnati Devono ovviamente Massimizzare Questo vantaggio Adesso Uge All'interno della giungla nemica Si trova di fronte Dei lumi Spottati Grazie a un germoglio Di divinazione C'è blackout Di fianco a lui Lanterna Come semplice Meccanismo di fuga Fune di fuga Quando ti trovi All'interno Di una grotta Troppo scomoda Tra l'altro Ricordiamo Questo è un Uge Che non ha ancora Chiuso una Drakhtar Che potrebbe Completamente Deletare Gotrek Sai cosa Intanto Flash per flash Flash al quadrato Collo cerca L'aggressione su Grobo Ma non era disponibile La trasfusione potenziata Quindi non chiude L'uccisione Stavo dicendo Non penso che vada per la Drakhtar Penso che la lama crepuscolare Sarebbe stata interessante Come acquisto per l'early game Occhio qui Attenzione perché Malzar Connette la propria ulti Coll Scappa È l'unica cosa che deve fare Ci sono i vari silenziamenti E qui c'è Kartus E invece no Si salva Perché ecco Che Connette Finalmente torna La Suprema Nello stesso Vladimir Che come abbiamo detto In fase di draft Nega completamente I danni della ultimate Del Requiem di Grobox Qui la Pozza di sangue È stato molto bravo Coll Ad aspettare Di utilizzarla Nel momento esatto Intanto Blackout e Ricky Stanno ancora Aggredendo la torre In corsia superiore Mentre Gabbo Cerca di contestare Dovrebbero passare Un altro paio di ondate Effettivamente Prima che possano Concretizzare La conquista della struttura Sì Parlo a scatti Perché sono incuriosito Da Trimby E Frozen Reng Aspetta una sorta di dive Aspetta una sorta di dive Ovviamente danni ingenti Visioni da parte di Gabbo Si buttano Trimby Qua si fa avanti Ma a quanto pare Un po' di spot Esattamente Spottati Quindi Raki e Blackout Se ne vanno Ok Invece no Non è vero Non se ne vanno Perché c'è Grobox Che ha incrociato Frozen Reng A muro Uno di fatto Ovviamente il fiore Porta lontano Frozen Reng Dall'aggressione Degli Asura Visioni dell'impero Vanno a scautare All'interno del cespuglio Per evitare che ci siano aggressioni Anche da quel lato Si rendono conto Che Kartus Stava indietreggiando Sapevano che il Requiem Non fosse disponibile Niente da fare Alla fine per lui Vladimir ha già accumulato Due fonti di penetrazione magica Flat Alla sfera dell'oblio E ai calzari del mago Non c'è nessuna fonte Di resistenza magica Nel team avversario Letteralmente Ci sono solo i calzari Di mercurio e di Uge Riguardo Uge Prima che l'azione Ci interrompesse Stavo dicendo Che probabilmente Andrà per Mannai Oscura E Angelo Custode Quel mattarello Non penso che effettivamente La Draktar Sia efficace In questa fase Ma più che altro Sai perché Per lo stesso motivo Che andavi ad analizzare Tu in fase di draft Ovvero la difficoltà Di aggressione diretta Del team nemico Effettivamente Non gli è facile Il FIG Robux Ormai scioglie Completamente I minion I poveri minion Come giusto che sia Per adesso Vediamo un drago Che sta per spawnare Un drago molto importante Perché ovviamente Sarà utile Per Yasura Per incrementare Il loro vantaggio La loro aggressione Alle torri Alle strutture Perché alla fine È quello Che devono puntare Chiudere gli obiettivi Miopia d'area Imposta dalla paranoia Utilizzata come semplice Strumento di controllo Qui non volevano Andare ad ingaggiare Volevano semplicemente Chiudere I scenari di contesa Per questo drago Esattamente Eh niente Nonostante la Suprema Ci ha provato Suprema che sottolineiamo Una cosa Inflige il 50% Del danno Ai non campioni E ai non mostri Epic Blackout In gaccia Perché Blackout Si butta dentro Ma male male Frozen Renga Trova lo scatto Suraki Costretto alla summoner Più il flash Parte anche di ulti Torre che viene Tancchata da Cole Trova danni Ma non connettono E rischia grosso Lo stesso Cole Trova Ora si fa avanti Perché vuole dare supporto C'è anche Uge Un vero peccato Per Blackout Che si butta dentro Panino per lui E ovviamente Chiudono la kill Di Clash Academy E ora potrebbe essere Addirittura un dive Guarda Gotrek Che sberle Che tira adesso Con la sua W nuova E rinnovata Il suo Ezreal Completata La prima Lo stack Della prima goccia Ovviamente Va per la seconda E non so Quanto a lungo Possano difendere Questa torre C'è Beso Suprema disponibile Però È facile da aggredire Ricky ha troppo Poca salute Per difendere Effettivamente C'è Blackout C'è Blackout C'è Blackout Può effettivamente Fare la differenza Però abbiamo visto Come prima Il gancio Non è stato vincente Qui nuovamente Danni a questa torre Mancano pochi HP Per cadere Blackout Trova Gabbo Di ulti Doppia ulti Da parte anche di Mazzar Gotrek Tira la sua Suprema Nulla di fatto Che addirittura Un Trimi che rischia grosso Cade Di Gabbo E invece muore Addirittura Grazie allo stesso Grobox Che di Requiem Chiude Quest'ennesima kill Due kill Per Yasura Che adesso potrebbero Portarsi in zona Baron Frozen Rang è vivo E ha un vantaggio in livelli Nei confronti di Uge Sarebbe un grosso rischio Non hai visione Gli avversari Sanno che ha iniziato il Baron C'è un vantaggio In livelli Questo potrebbe essere Uno smite fight 60-40 Non vuoi rischiare In realtà Non stai rischiando Ho notato adesso Che non c'è Non c'è spazio Per buttarsi dentro Addirittura Grab Su e più Mewpia Su questo Godrek Che viene imploso Mentre Frozen Rang Costretto a fuggire C'è invece il fear Su call Pozza di sangue Che riesce a disingaggiare Più flash Uso della Suprema Non connettono i danni Ma la kill Arriva allo stesso Grazie per l'appunto Alla Suprema Utilizzata da call Per chi si stesse chiedendo Ma come Nocturne aveva utilizzato Lo spell shield Come vai È morto lo stesso Ricordiamo che L'applicazione Dell'emopiaga di Vladimir È data dal primo proc Il secondo proc È solo danno aggiuntivo Ma non conta Come un'ulteriore abilità Attivata Di conseguenza Se si vuole parare L'emopiaga Bisogna pararla Nel momento In cui viene imposta Su di voi Non di meno Arriva la Baron Powerplay In questo caso Per il team degli Asura La vediamo lì Spiegarsi su di noi Accanto al tabellone E abbiamo Più di due minuti e mezzo In cui gli Asura Possono concretizzare Adesso il vantaggio Accumulato finora Bella la call Non c'era il flash Da parte di Frozen Rang Quindi Nonostante il vantaggio In livelli L'assenza del bulbo esplosivo Impediva Di Cercare un furto Chiudere su uno Xin Zhao Che cerca di entrare Dalla porta principale È fin troppo semplice Esattamente Ha provato a fare il giro Ma ovviamente È stato chiuso Dalla team Degli Asura Adesso devono concretizzare Questo Baron Gli aiuta In quello che è ovviamente La loro winning condition Vedremo se riusciranno A prenderselo Qui Gotrek ha rischiato Perché un beso aggressivo Cercava di rubare addirittura Il red Negare un buff A un Gotrek Che adesso di danni È molto forte Qui Qui adesso Crollano le torri Una dopo l'altra Ovviamente Difendere le strutture esterne Di fronte a un potenziamento Del Barone È totalmente Neanche impossibile Inutile Da parte dei Clash Si rendono conto Di essere in svantaggio Giocano in maniera Tranquilla Vogliono semplicemente Non perdere troppe risorse In questo minuto E 43 residuo Di potenziamento Del Barone Questo è perché Visioni di Gabbo Provano a spottare Quelli che sono i membri Di Asura Che adesso pascolano Per la giungla superiore Uge Frozen Rangan Però lo trova Lo vede Quindi nulla di fatto E questa è un'ennesima torre Che viene aggredita Però sono addirittura Tre i membri dei Clash A difendere E Rang è ancora lì Manca potere di ingaggio Attualmente Arrivano i ping Aggressivi Da parte degli Asura Volevano chiudere Su Frozen Rangan Non avevano chiare informazioni Su di lui Dato che comunque C'era un lume di controllo Trimby Potrebbe andare a impedire A Uge Di conquistare Il proprio lume Infatti è così Continuano questa partita Scacchi Uge contro Frozen Rangan Un altro capitolo Frozen Rangan connette lo slow Cerca di portarsi avanti C'è la fuori da parte di Uge Ma subito I Asura Cercano ovviamente Di dare manforte Allo stesso Uge Quindi Frozen Rangan Costretto a fuggire Scambio di ping Non vogliono lasciare Quel cespuglio Incustodito Trovano nuovamente Uno slow Da parte di Trimby Nulla di fatto Sono lì però La corsia superiore È quella più incandescente In questo momento E però sai Non essere riusciti Ancora a chiudere Sulla struttura Voglio dire Mancano 40 secondi Allo scadere Del potenziamento Del barone È l'unico che ha trovato Veramente risorse È Cartus in corsia centrale Adesso finalmente La vanno a prendere La struttura Connette Questa è un'altra torre Non connette Perché il gancio Se lo prende E il minion cannon Che fa quindi Da front line Per il team Di Crash Academy Meraviglioso Un plauso Al minion Che si è sacrificato Per una giusta causa Verrai eletto A onore di popolo MVP MVP assoluto della situazione Il minion cannone Che si è mangiato La sentenza di morte Di blackout Con la corsia centrale Semplice wave clear Per lui A breve Dovrebbe iniziare a ottenere Degli oggetti interessanti Della sua Ha il codex demoniaco E alla bacchetta Della distruzione Penso considerata La struttura Del team nemico In un velo Della Banshee Per lui Però Potrebbe essere Una clessidra Di zonia Ma non No Che sto dicendo Non va con la bacchetta Della distruzione My bad Momento di lapsus Mentre invece Qui si portano A setupare A uccidere Quello che è Un ennesimo dragon Nelle mani degli azura Che adesso Ne hanno ben 4 Con un doppio buff Del vento Quindi insomma Sono messi bene Le carte in tavola Ce le hanno Ma devono chiudere Una cosa Non abbiamo ricordato prima Sulla patch 8.23 Ricordiamo che I primi draghi Sono stati buffati Di conseguenza Avere dalla propria Più draghi Di elementi diversi È molto più efficace Adesso che nelle patch precedenti Avere 4 draghi elementali Dei quali Solo uno Si ripete per due volte Significa che gli azura Hanno una valanga Di statistiche bonus Della loro Una tonnellata Di velocità di movimento In più Una valanga Di rigenerazione bonus E quei danni in più Sulle strutture Che non fanno mai male Questa combinazione Di draghi Urla ad alta voce Una cosa Rotazioni Tu vuoi ruotare E aggredire Le strutture nemiche Hai danni bonus Sulle strutture Hai rigenerazione Tra una rotazione E l'altra E ruoti più in fretta Grazie ai draghi Della nuvola Di conseguenza Il macro game Aggressivo degli azura Potrebbe aver trovato In questi draghi L'ultima carta Per completare Il proprio poker D'assi Esattamente Però io sono preoccupato Sono preoccupato Perché il minutaggio Comincia a diventare Importante Corposo E quelle kill Seppur doppie Di Clash Academy Cominciano ad essere Sempre meno rilevanti La gold lead Ancora mantenuta Da Yasura Però io ho questo sentore Come se dovesse Capitare qualcosa Come se stesse Per accadere qualcosa Vedremo Perché attualmente Vogliono chiudere su Gabbo Blackout Flash in avanti Si porta dentro C'è ovviamente Biopia Più il gancio Costretto alla Clestidra Gabbo stesso Ma nulla di fatto Perché c'è il panino Da parte di Yasura E se lo mangiano Tranquillamente Quindi Clash Academy Trovano uno in meno Gabbo Lì Che pascolava Nella giungla Gabbo discutibile Su questo Swain Sarò sincero Non è uno Swain Che ha buildato bene Per l'occasione Non è uno Swain Che sta giocando In maniera ferma E precisa Ha flashato dritto Ha cercato di flashare dritto L'uncino di Thresh E sei davanti È un Thresh E quindi Questo significa Che la torre crolla Sono in 4.5 E forse addirittura Lì l'uso della Clestidra Quasi Vabbè dai Una Clestidra Quindi comunque Il tempo di ricarica Dell'attivabile Non è così elevato Uge va a parare Lo sbarramento energetico Grazie al proprio Spearshield Ottiene velocità di movimento Blackout cerca Della distanza L'uncino E non connette Però sono torri Che cade Attenzione Trimby dentro Con la sua ultimate Gotrick ha trovato Ingenti danni Su Growbox Muro Giustamente Qui c'è un TP Frozen Ranga Vuole effettivamente Overestandere C'è anche Gabbo Visioni su Uge Non trova niente Perché è troppo veloce C'è spottato Nuovamente Grappato Ulti dentro Delegato E adesso qui C'è Partai Parti Hard I Clash H Mi cadono Uno dopo l'altro Però c'è La serie interrotta Da parte di Vladimir Infinitivita Colpo su colpo Trimby Gotrick Non ce n'è Riesce a salvarsi Addirittura Dentro con la ulti Deleta No Perché Gotrick Si salva Per quel rotto Della cuffia E sono lì Sono in pari Un colpo Semplicemente Ma dai E nuovamente Miopia Torna Nel momento più ottimale Adesso con la Q Uge potrebbe effettivamente Rincorrere Quello che è un Dream Infinitivita Col Poverino Rimasto nelle retrovie Ha trovato la kill Su Ricky Ma Il gancio Di Blackout Infame Lo punisce E addirittura Uge Overestande Si prende Quest'inibitor Perché può Permetterselo Tiltati fino all'iperuranio Qui i Clash Hanno veramente Sbagliato Tutto ciò Che si poteva Sbagliare Su ogni Loro Campione In rapida Successione Quindi Davvero Si sono immolati Di fronte Agli Asura Bravi Agli Asura A capitalizzare Gotrick Ha cercato Disperatamente Di infliggere Il colpo di grazia A Kartus Durante La canalizzazione Del Requiem Quello sarebbe bastato A bloccare Il Requiem Stesso Ricordiamo Se Kartus Muore Durante la canalizzazione Nonostante Kartus Possa continuare A utilizzare Abilità da morto La canalizzazione Viene interrotta Grobo Adesso Tranquillissimo Va per largo granchio Trimby cerca di contestare Se lo prende Perché Grobo Non commentiamo Sì Siamo nel Nel fantascientifico Il fantascientifico E questo ovviamente Dona visione A quello che A quanto pare È una formazione Per Baron Ovviamente qui Spottano Quello che è Un lume di controllo Doppie pink Perché sì Perché danno un buff Ai danni del Baron Do pink is meglio Che one Esattamente Uge si porta avanti Visioni che vengono Doggiate Gotrick non riesce Con il tra W Neanche la propria Q C'è il muro Che va a slow wire Frazer Renga Nuovamente grabbato Break out on fire Con questi grab Però adesso vedremo Perché intanto Sono riusciti a interrompere Quello che potrebbe essere Un'aggressione al Baron Momentaneamente Quindi comunque Devono stare attenti Sì ma lo voglio Lo forzano E potrebbero farlo Tranquillamente Guarda però La corsia inferiore Abbiamo un'ondata Di super minion Che si sta portando Verso la base Dei clash Qui gli asura Stanno giocando metodici Sanno che possono giocare Il gioco delle attese Per loro è una partita Scacchi Quando si accumuleranno Doppi super minion All'interno della base Dei clash Quasi sicuramente Qualcuno dovrà andare indietro E a quel punto Il Baron Incontestabile Qui addirittura A muro Che va a trovare Gotrek Che trova però Ingenti i danni Su Grobox Addirittura si tanca Pochi colpi E per poco Non rischia Perché comunque La visione di Gabbo Ha tolto Tanto quanto bastava E il Baron Poi ci ha messo Un po' Un po' di pezza Però qui giustamente Devono continuare A bloccare i richiami base Devono aspettare Che i minion Distruggano le torri E così è Crolla la prima torre Del nexus Maldestri In questi momenti Clash Che pur di difendere Questo Baron Che veniva comunque Startato Ed ecco che viene Per l'appunto startato Ulti da parte Di Gotrek Deletato Questo Blackout A questo giro Non connette Il suo grab Perché trova solo La morte Vladimir nel contempo È difeso Soltanto la corsia Centrale E non quella superiore Che nuovamente Si vede affrontare Un'altra minion wave Ma sono riusciti A bloccare Questo Baron Hanno bloccato il Baron Hanno ucciso finalmente Blackout Trovando vendetta Della balanga Di ingaggi precedenti Il problema È che attualmente L'addetto Alla gestione Delle corsie laterali Dei clash Topo Gigio E di conseguenza Due ondate gigantesche Di minion Si stavano schiantando Sulle strutture Io non ci posso ancora Credere che hanno perso Quella torre E Cole Stava cercando di contestare Tre ondate Contemporaneamente In base Una torre del nexus È crollata Avevano quasi perso L'inibitore della corsia superiore Considerando che la torre Della corsia superiore Si era comunque Era comunque È stata distrutta dai minion stessi E questo significa Ok Aver interrotto Il barone Ma 5 draghi elementali Per gli asura E due ovviamente Che vanno a pesare forte Sulle torri Quindi non a caso Due dei peggiori buff Potevano Oddio C'è anche l'inferno Che di certo Non avrebbe aiutato Per questa comp Sì mettere anche un inferno Lì significava Veramente far piovere Sul bagnato Lo puntiamo dentro Esattamente D'altronde hanno giocato Veramente bene Gli asura Tattici Nel sfruttare La minion wave Della corsia inferiore Nuovamente Al Baron Vogliono forzarlo Ingenti danni Da parte di Gotelk Più la visione Di Gabbo Che trova più di un membro Però questo È un Nashor Che va Ovviamente Nelle mani Gli asura Grabato questo giro Blackout Trova comunque La suprema Peso Deleta Frozen Renga C'è la Klessidra Da parte Dello stesso Connetta l'uncino Uncino connesso Ulti Gabbo Costretto ovviamente A retrocedere Ma muore E vengono deletati Uno dopo l'altro Scambio di kill Perché cade Vladimir Cade anche Swain Adesso si fanno forti Doppia kill Ricky perché Attenzione Riesce a morire Gotrik si porta dietro Grobox potrebbe trovare la kill E riescono effettivamente A deletare E nel contempo Guarda Dov'è Bezo Signore e signori Con il teletrasporto Di Malzara Chiudere una pratica Che già era chiusa Da diversi minuti Il numero del diaulo 66.600 gold Per gli asura Ed è vittoria per loro Bravi 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 Gli asura Si sono riusciti a riprendere Mentalmente Da una partita Che li aveva devastati E hanno dato ai clash Il trattamento clash Dall'altro lato I clash L'hanno Gettata via Questa partita Diciamo Gettata alle ortiche Allora Discutibile il build path E la gestione dei teletrasporti Late game Da parte di Gabbo Gabbo che muore A inizio azione In corsia inferiore Poi si riteletrasporta Per morire di nuovo Perdono l'inibitore bot Dato che è morto due volte Senza trovare nulla Per il suo team Perso l'inibitore Si gioca il gioco Delle attese Ma ci si è arrivati Lentamente in quella fase Lì era già troppo tardi Per i clash I clash ci hanno provato Però guarda qui ogni volta Che lavoro immenso Che ha fatto blackout MVP assoluto della partita Secondo me Ogni grab Una kill Poco più poco meno E dall'altro lato invece Gabbo Quest'azione ancora una volta È un'azione che si è aperta Perché Gabbo muore Discutibile il suo Swain A dir poco Si diciamo che non ha brillato Come nella corsia Non era Urgot Stava giocando Swain Come se stesse nuovamente Giocando Urgot Ma non è Urgot Che cosa devi fare Quando vorresti avere Urgot Ma non hai Urgot E a questo punto La domanda diventa Se comunque Avevi la possibilità Di mettere Urgot Della tua in prima rotazione Perché non l'hai fatto E guarda qui Alcune delle azioni finali E quando Gabbo era morto E ha provato a teletrasportarsi E eccolo qua Il TP per l'appunto di Gabbo Ricordiamo teletrasporto Non più annullabile All'interno della patch 8.23 Però quello che era annullabile Era l'ingaggio 1.4.5 Quello non è dipendente Dalle patch note Questo è un errore Di considerazione Della capacità Di resistenza Al danno Del proprio campione Da parte del top laner Dei clash E niente Alla fine Qui hanno provato A fare quello che potevano I restanti membri del team Guarda qui Grobo Con quanto si è salvato Gotrek Qui appena vede la situazione Si lancia in avanti Ha cercato il danno Però subito Blackout Si è messo davanti All'alleato Magistrale Blackout Veramente Da così a così Quando gioca in zona di comfort È peccato perché qui Chloe aveva trovato Una kill Per esempio Su Ricky Però era l'unica Kill trovata Per i clash academy Mentre il resto del team Veniva deletato Completamente È stato un Susseguirsi Di azioni discutibili Che alla fine Hanno portato i clash A crogiolarsi Nel loro vantaggio E a cedere terreno Braviglia Sura Sono riusciti A prendere A draftare Una composizione Punto primo Da early game Punto secondo Sulla quale avevano Molto più comfort E ci dimostrano Di che pasta Sono fatti Prima sconfitta Per i clash All'interno del torneo Per assistere Al proseguo Di questa serie Non andate Da nessuna parte Perché ci prendiamo Una breve pausa E torneremo qui Tra pochissimo A tra poco Grazie